E adesso Donald Trump ci tromberà a tutti, intendendo tutti noi del vecchio continente. L'eufenismo sarcastico fa infatti riferimento ad un drammatico stato di cose che si è venuto a determinare per quel pregiudizio storico che l'Occidente ha nei confronti della Russia. Paese che è stato sempre avversato dalle potenze coloniali europee, almeno riferendoci a lontano 1853 quando con la guerra di Crimea la Russia venne platealmente sconfitta dall'alleanza tra Francia, Inghilterra, Austria e la stessa Sardegna. L'Inghilterra aveva bisogno di una Turchia ostile ai russi per garantirsi il controllo del Mediterraneo orientale e delle sue colonie in Asia. Napoleone III di Francia aveva bisogno di un successo per consolidare la sua posizione interna. Entrambe si unirono permettendo 50 anni dopo alla Turchia di fare mattanza delle minoranze etniche e ivi presenti, in particolare sterminando 2 milioni di armeni con la sua politica nazionalista. In tempi più recenti con gli Stati Uniti d'America non è cambiata la politica di contrasto alla Russia che hanno dato alla Turchia carta bianca nel genocidio o in atto nei confronti della minoranza kurda. A nulla è valso il sacrificio di 25 milioni di russi a fronte delle 400 mila perdite americane per contrastare il nazifascismo. La Russia, insomma, è rimasta il nemico pubblico numero uno. Oggi gli USA proseguono la politica di contrasto antirussa con la fomentazione dei gruppi fondamentalisti di Al-Qaeda e dell'ISIS in tutti i territori confinanti con la Russia. Ma la situazione sta sfuggendo di mano. Questi movimenti, alimentati dalle immense risorse di denaro dell'Arabia Saudita, si sono espansi a macchia d'olio fino a destabilizzare non solo l'area del Medio Oriente ma anche l'intera immensa superficie dell'Africa del Nord, oggetto di una islamizzazione forzata e violenta. In tutto ciò l'Europa è stata infinocchiata, come dicevo all'inizio, perché non solo si è dovuta sobbarcare, rimanendo asservita agli Stati Uniti, l'onere economico della crisi prodotta dalle banche americane, ma si ritrova pure circondata da stati islamici fondamentalisti come Libia, Iraq, Siria e Turchia. Tocca a tutti noi europei da una parte, al popolo americano dall'altra, capire che una rivalutazione della Russia sullo scenario internazionale produrrebbe la pace mondiale. Fra Europa e Russia lo scambio commerciale produrrebbe una vera e propria ondata di ricchezza, perché la Russia è vicina all'Europa e piena di materie prime e l'Europa dispone della tecnologia indispensabile al salto industriale che la Russia desidera da decenni. Inoltre, la Russia dispone della strategia politica e militare necessaria alla stabilizzazione del Medio Oriente. Se l'opinione pubblica americana fosse informata che la Russia non è più il pericolo pubblico numero uno, non potrebbe non concordare sul fatto che la pacificazione USA-Russia darebbe luogo a un ordine mondiale equilibrato e duraturo. Per adesso continuiamo pure a dormire, magari sognando quello che Trump potrà offrirci di meglio, il deretano femminile del tipo americano.